Doppia sentenza del Tarra a favore del di Castero della Cultura e così l'antico immobile Palazzo Federici che a faccia su Piazza Duomo sarà destinato a diventare la sede della sovrintendenza. Il Ministero potrà esercitare il diritto di prelazione e quindi acquistare coattivamente Palazzo Federici per trasferirvi sui uffici periferici. Due le sentenze, una che conferma il diritto di prelazione e l'altra che stabilisce la legittimità del vincolo monumentale apposto dal Ministero all'edificio nel 2023. I giudici hanno rispinto così il ricorso dei privati che avevano un accordo preliminare all'acquisto con i proprietari che avevano messo in vendita l'edificio. I privati nel ricorso contestano il fatto che non si capisce in quali termini l'acquisto da parte del Ministero possa comportare la valorizzazione del patrimonio in città. Il Tarra però nella sentenza svela che la sovrintendenza ha un progetto di valorizzazione e destinazione d'uso. La buona notizia è che comunque sarà uno spazio con un ufficio del Ministero della Cultura e con altre aree a disposizione di tutti, pubblico insomma. Tra l'altro la proposta di valorizzazione prevede appunto che per lo spazio del cinema con ingresso sul Via Tremarie si stabilisca l'uso della galleria e del palcoscenico ancora presenti come sala convegna anche concessa a terzi. L'area espositiva ipotizzata inoltre su Piazza Duomo sarebbe uno spazio per raccontare il lavoro della sovrintendenza. Insomma alla fine dei conti ci sono spazi per la città. Sulla questione del vincolo invece il Tardice è che ci sono molti edifici in cemento armato all'Aquila ma non per questo non è uno stabile e meritevole di tutela. I privati a questo punto potrebbero però rivolgersi al Consiglio di Stato come ultimo passaggio.